benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo una puntata che dedichiamo all'attesa della sentenza della corte costituzionale sull'articolo 580 del codice penale in sostanza dedichiamo la puntata all'attesa della soluzione del caso marco cappato come sapete marco cappato ha aiutato dj fabo al suicidarsi in svizzera questa decisione è stata compiuta da marco cappato scientemente lo ha scritto anche commentando alcuni nostri post sapendo che andava a infrangere l'articolo 580 del codice penale in una processo surreale al tribunale di milano il pubblico ministero ha fatti complimenti a marco cappato e i giudici del tribunale di milano non lo hanno condannato ma hanno rinviato le carte alla corte costituzionale affermando il dubbio di costituzionalità attorno all'articolo 580 come sapete l'articolo 580 è l'articolo che senza ombra di dubbio condanna l'istigazione e l'aiuto al suicidio quindi siamo dentro un frangente della storia giuridica del paese ma anche della storia del paese tu cura in cui bisogna decidere e lo deciderà oggi la corte costituzionale se l'articolo 580 del codice penale è ancora pienamente in vigore oppure sussistono dubbi di incostituzionalità l'affermazione dei legali di marco cappato è e l'articolo 580 del codice penale è incostituzionale perché è una norma del 1930 appartenente dunque all'epoca fascista ora qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno sa perfettamente che l'intero codice penale tutto il codice penale italiano è sostanzialmente il cosiddetto codice rocco cioè il codice scritto nel 1930 accorpando le norme appunto in un unico codice che è il codice penale fatte salve alcune modificazioni di segmento diciamo così l'intero corpus del codice penale italiano è il codice del 1930 dunque l'affermazione dei legali di cappato di proclamare l'incostituzionalità della legge della norma 580 del codice penale vorrebbe dire che se questo è il criterio è l'intero codice penale a decadere con la sentenza della corte costituzionale di oggi ma al di là di questa valutazione se oggi la corte costituzionale proclama l'incostituzionalità dell'articolo 580 del codice penale dunque legittima l'aiuto al suicidio nella versione cappato che ovviamente è una versione furba il caso di jay fabbo la persona in estrema sofferenza ovviamente è un caso perfetto per fare da cavallo di troia e squassare completamente il tessuto giuridico italiano in termini di sostegno dunque all'aiuto al suicidio e all'eutanasia se oggi la corte costituzionale dà ragione ai legali di cappato e proclama l'incostituzionalità nell'articolo 580 nella fattispecie del caso di marco cappato prepariamoci perché ovviamente vuol dire che l'eutanasia e il suicidio assistito vengono sdoganati in italia per questo noi ci siamo mobilitati da prima come popolo della famiglia da prima che le coste accadano facendo una campagna di sensibilizzazione già ieri su tutti i giornali facendo conoscere la nostra posizione perché i cattolici purtroppo oggi sono abituati a commentare il giorno dopo quando le cose ormai sono successe mentre la pressione va creata il giorno prima nei giorni precedenti per questo esiste il popolo della famiglia per avere una no una attenzione che va a porre il problema prima che il problema si verifichi perché porre il problema dopo che il problema si è verificato è semplicemente da sciocchi lo diceva benissimo chesterton urlare dopo che il male si è prodotto è anche da gretini bisogna urlare prima che il male si produca noi invece siamo abituati da cattolici a farci fare i danni sul piano giuridico e poi il giorno dopo fare l'editoriale su avvenire quando le cose sono ormai accadute la croce apre oggi oggi apre sulla consulta e sul caso cappato dedicando l'intera prima pagina potremmo dire perché dedichiamo l'apertura l'editoriale e anche l'editorialino al caso articolo 580 del codice penale al caso cappato al caso di j fabbo almeno abbiamo costruito una consapevolezza nel nostro popolo della gravità della decisione che si va a assumere oggi dell'importanza evidentemente perché se fosse ribadito pienamente il valore dell'articolo 580 del codice penale noi avremmo la tranquillità di poter dire che nel tessuto giuridico italiano non entrano il suicidio assistito e l'eutanasia se viceversa dovesse andare in direzione di marco cappato la sentenza della corte costituzionale questo purtroppo aprirebbe la strada lo diciamo prima lo gridiamo prima aprirebbe la strada all'applicazione sistematica tra l'altro senza neanche norma di legge di suicidio assistito e eutanasia nel sistema italiano questo è terrificante oltre che profondamente ingiusto perché queste norme dovrebbero essere portate al vaglio del parlamento se non fossero portate al vaglio del parlamento ma entrassero per via giurisprudenziale per una sentenza della corte costituzionale sarebbe gravissimo quindi noi sottolineiamo questo elemento e lo facciamo con grande nettezza dando dunque attenzione a questo argomento ci aiuta nel percorso che stiamo compiendo anche il vangelo di oggi che andiamo a leggere subito prima vi chiedo un like alla diretta per favore un mi piace alla diretta so che siamo partiti con molto anticipo ma era necessario c'è stato richiesto dal coordinamento editoriale di partire oggi con anticipo per esigenze del coordinamento stesso quindi per favore un like alla diretta per farci salire e far sapere alle persone che siamo in diretta nonostante l'ora diciamo anticipata rispetto all'andata in onda abituale prendete e fate la condivisione sul vostro profilo della diretta di oggi e se volete se potete prendete il link della diretta di oggi ho visto che è stato già postato sulla chat operativa del pdf prendete il link e lo trasmettete a tutti i vostri contatti messenger e whatsapp ricordate che oggi è fondamentale che ci sia una mobilitazione attenta almeno dei cattolici andrebbe detto di tutti gli italiani su questa decisione della corte costituzionale che può essere una decisione estremamente determinante per i destini del mondo pro life in questo paese vado a leggere dunque il vangelo di oggi che è particolarmente indicativo per questo nostro ruolo diciamo così di persone che sanno essere pronte ad aspettare ciò che accade non c'è che non distratte è il vangelo di luca siamo nel capitolo 12 i versetti 4 versetti vado a leggervi sono quelli che vanno dal 35 al 38 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito appena arriva e bussa beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli in verità vi dico si cingerà le sue vesti li farà mettere a tavola e passerà a servirli e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati loro questo è il vangelo di oggi estote parati siate pronti siate pronti è l'indicazione che sempre ci fornisce il vangelo dalla cui lettura è ovviamente ispirante per il nostro lavoro simone mondiali dice intanto che il pdf di bergamo sta preparando i gazebo contro i canapa shop altra battaglia fondamentale del popolo della famiglia saluto emilio oddio mio mi sono perso mi devo cambiare gli occhiali perché se vado con questi occhiali non riesco a leggere le vostre scritte ecco così andiamo meglio emilio maltalenti se uno è solo e sta male che deve fare che deve fare se noi allora questa è la domanda cruciale il caso dj fabbo ti regala la possibilità di dire chiaramente quella che è la nostra opinione quello che è il nostro la nostra valutazione tu guardi il caso dj fabbo e pensi è un caso estremo ti identifichi in quella persona che che peraltro non era sola aveva una mamma che non voleva che commesse commettesse l'atto suicidiario aveva una fidanzata sei solo stai male perché non morire ora se noi accettiamo quella che papa francesco chiama la cultura dello scarto cioè quando una persona è in condizione di difficoltà è legittimo che venga eliminata dalla società noi apriamo le porte all'inferno noi attraverso la storia di dj fabbo che fa da cavallo di troia arriviamo alla dimensione belga e olandese la dimensione belga e olandese una dimensione dove vengono uccise ventimila persone all'anno ripeto ventimila persone all'anno che non sono ventimila dj fabbo sono ventimila anziani depressi malati in alcuni casi giovani giovanissimi neonati come sapete è stato ucciso pochi giorni fa un neonato che aveva una prospettiva di vita di soli dieci anni poiché la scienza diceva che poteva vivere solo dieci anni il bambino nato e vivo è stato ucciso ora capite che se voi consegnate a un sistema la possibilità di eliminare i malandati diciamo così questo sistema ne approfitterà sempre di più e infatti le curve che io ho provato a raccontare nei miei libri sia in voglio la mamma che in capiamo moriamo raccontano che in olanda nel 2001 si è cominciata a applicare l'eutanasia a 700 casi adesso siamo arrivati tra belga e olanda e i casi poi di suicidio assistito in svizzera a ventimila casi perché perché ovviamente per i sistemi del welfare della sanità olandesi belgi in qualche modo anche svizzeri questo è un sistema per risparmiare una valanga di soldi per risparmiare una valanga di quattrini se tu hai un principio che dice ti puoi auto eliminare o addirittura puoi essere eliminato se arrivi a un percorso della tua vita in cui la tua sofferenza ti appare insostenibile e può essere anche una sofferenza di natura psichica tant'è che ormai vengono eutanasizzati come si dice anche i depressi allora a questo punto la porta dell'inferno è aperta vivranno progressivamente solo i produttivi e soli ricchi quelli che non ce la faranno più o avranno un momento di grave difficoltà che nell'esistenza capita capita spesso e ho l'esperienza familiare e personale per poter parlare di questo argomento l'istinto al suicidio si trasformerà in suicidio con la determinazione che aiutare a suicidarsi è persino cosa buona è cosa valoriale bene amici miei se passa questo principio siamo dentro il classico tipo di situazione della finestra di overton nel 1930 il codice rocco il codice fascista come si dice chiaramente dice codice attualmente in vigore che aiutare una persona a suicidarsi è come ammazzarla e quindi gli da una pena dai 5 ai 12 anni di carcere e lo dice chiaramente non è in discussione la chiarezza o l'interpretazione della norma la norma è questa la norma è testuale e non interpretabile chiunque aiuti in qualsiasi modo una persona a suicidarsi se il suicidio si realizza va in carcere dai 5 ai 12 anni non c'è dubbio che la norma indichi questo nel 1930 evidentemente era impensabile aiutare una persona a suicidarsi insopportabile al punto che la pena arriva a 12 anni di carcere la finestra di overton si apre e progressivamente con i sei gradi della finestra di overton ciò che era totalmente inconcepibile tanto da essere punito con 12 anni di carcere arriva a essere prima accettabile poi addirittura auspicabile ora voi capite che se passa questo criterio a livello costituzionale cioè nella corte costituzionale fanno passare un criterio del genere signori chiudete la paracca dei libro life perché è evidente che ormai la cultura della morte si è impossessata del tessuto giuridico del nostro paese è esattamente il principio con cui viene ucciso charlie card il principio con cui uccidi charlie card il principio con cui vengono ammazzati tutti i bambini britannici di cui ci siamo occupati anche qui a stampevangelo sulla croce con la mobilitazione dei pro life dove abbiamo sempre perso ricordiamocelo dove abbiamo sempre perso abbiamo sempre perso perché il tessuto giuridico britannico ha inoculato il meccanismo del sopprimere il malato a prescindere dalla volontà familiare a prescindere persino dalla volontà del malato stesso ormai si uccide perché quella persona è un costo troppo grave per le casse della sanità pubblica ora se tu introduci quel virus che in inghilterra abbiamo visto cosa ha prodotto in olanda abbiamo visto cosa ha prodotto in belgio abbiamo visto cosa ha prodotto in svizzera dal 1930 noi abbiamo nel 1930 il codice rocco che vieta il suicidio assistito in svizzera dal 1930 hanno le associazioni di suicidio assistito lo capite che è una differenza di natura culturale enorme in svizzera fanno business da 90 anni sulla pelle dei disperati perché non vai in svizzera a suicidarti perché c'è un atto umanitario ma in svizzera a suicidarti se gli dai 15 mila euro 18 mila euro perché è un'enorme questione di quattrini non c'è nessun'altra valutazione se non un elemento che ha a che fare col mercato tutto il resto sono chiacchiere e infatti chi investe sulla posizione di cappato è la open society foundation di george soros che teorizza la necessità che sulla terra dobbiamo essere sempre di meno affinché la fetta di torta per ciascuno sia più ampia e dunque devono esserci meno nati più aborti meno anziani meno depressi meno affaticati da eliminare con l'eutanasia è un disegno chiarissimo ammantato di umanità e diritti ma che in realtà ha al suo cuore solo una colossale questione di denaro di denaro dobbiamo averlo chiaro in testa questo è solo un'enorme questione di soldi charligard muore perché costa troppo curarlo è questo il tema non c'è il best interest del minore non c'è la valutazione di natura umanitaria è un costo eccessivo per le casse per le casse del sistema sanitario britannico cosa fare praticamente dice mirco giustini bisogna mobilitarsi politicamente in termini di opinione pubblica guardate da questo punto gli radicali sono un esempio parco cappato quando si candida alle elezioni prende meno voti di noi e c'ha 50 anni di storia di partito radicale alle spalle mentre noi siamo una cosa nata due anni fa ma ha la capacità di costruire contro tutti per certi versi degli atti politici testimoniali perché senza dubbio l'atto che ha compiuto è un atto politico testimoniale dove può pagare di persona che hanno una fortissima capacità evocativa cioè ha una capacità politica diciamoci la verità da questo punto di vista i radicali si sono candidati alle elezioni spendendo una valanga dei soldi che gli dà George Soros hanno preso il 2 per cento cioè neanche tre volte i nostri voti ma hanno una capacità di penetrare facendo sembrare fondamentali battaglie che sono marginali pensate quella sul testamento biologico ve lo ricordate Emma Bonino che si mette a piangere tutta commossa perché hanno approvato il testamento biologico ve lo ricordate 27 dicembre del 2017 successo qualche mese fa la fine della legislatura passata con il voto decisivo dei dei del eletti del centro destra anche i cattolici ve lo ricordate bene quella persona ha fatto approvare una legge che sembrava fondamentale quella sul biotestamento sono andato a scrivere lo trovate oggi sulla croce i numeri di quelli che hanno firmato le dati in campagna sono nove persone nove persone hanno firmato il biotestamento il record c'è la bologna con 833 persone su 400 mila abitanti vuol dire che lo 0,05 per cento degli abitanti di bologna ha avuto l'interesse a firmare il biotestamento è il niente sono come gli unioni gay che hanno riguardato lo 0,02 per cento della popolazione italiana sono semplicemente questioni di lobby di piccolissimi segmenti di società che vengono trasformati in grande battaglia politica anche ovviamente foraggiata da una marea di denaro questo è chiaro noi fatichiamo a fare un abbonamento alla croce questi c'hanno soros che gli dà i miliardi è chiaro che c'è una differenza competitiva enorme che è la differenza della campagna elettorale dell'abbonino e del popolo della famiglia alle scorse elezioni politiche però alla fine i livelli di consenso sono equiparabili il popolo della famiglia ha preso il triplo di quello che prese la lista pannella nel 2013 alle elezioni il triplo stavolta ho tutti i soldi di george soros la bonina ha preso il triplo ma ha fatto lo stesso risultato nostro non è riuscita a superare lo sbarramento come non ci siamo riusciti noi quindi qual è la forza di questa realtà politica radicale su cui ci può essere un'imitazione di metodo la capacità di costruire azioni politiche evocative della loro posizione fregandosene poi delle contestazioni e alla fine dopo molti anni ottenendo addirittura l'applauso perché attenzione quando c'è stata la morte di dj fabbo io mi sono permesso di scrivere che era un atto fatto come fanno i nazisti anzi nazisti lo fanno gratis e mi beccai gli insulti di tutto il pianeta oltre che il premio dell'espresso per la peggiore frase dell'anno che ripeto oggi la ripeto oggi quei quelle pratiche sono terribili le pratiche di eliminazione di persone deboli da parte del sistema svizzero a pagamento sono esattamente il meccanismo della eutanasia alla tedesca della action t4 esattamente le stesse con la differenza che devi pagare è così non ho detto il falso è esattamente così eppure io mi sono preso gli strali di tutto il mondo bloccato da facebook per un mese il premio dell'espresso per la peggiore frase dell'anno e tutti applaudivano invece marco cappato al punto lo applaudivano che quando è andato in tribunale perché era oggettivo che quello fosse un reato perché l'articolo 580 è chiarissimo il pubblico ministero donna ha applaudito il bel riccioluto marco cappato lo ha applaudito che ha detto bravo io non chiedo la tua condanna bravo marco cappato e il tribunale che sapeva che doveva applicare una norma e dargli almeno cinque anni di carcere per non condannarlo ha mandato gli atti alla corte costituzionale ed eccoci al punto di oggi siamo arrivati a 23 ottobre 2018 al punto di svolta non c'è l'attenzione di nessuno non c'è un editoriale di avvenire qualcuno che si sia mobilitato la chiesa niente c'è il popolo della famiglia a essersi mobilitato e il popolo della famiglia dice attenti perché questa è una giornata in cui il versante giuridico del nostro paese può essere totalmente modificato da una pratica antidemocratica con una norma immessa nel sistema giuridico senza passare dal parlamento basterà che la sentenza dichiari incostituzionale per la parte che riguarda marco cappato l'articolo 580 del codice penale e allora aiutare al suicidio sarà legittimo se aiutare al suicidio sarà legittimo signori si aprono le porte dell'inferno ma voi pensate quanti voi pensate quanti potranno a quel punto inoculare ovviamente anche in italia pensate al business che fanno in svizzera le associazioni exit e dignitas che potranno a quel punto praticare lo stesso tipo di mercato anche sul territorio italiano e chi potrà dire loro niente se c'è una norma se c'è una sentenza della corte costituzionale che è legittima l'aiuto al suicidio già adesso hanno gli agenti in italia sono veri e propri agenti che raccolgono aspiranti suicidi che poi vanno a dare i 18 mila euro in svizzera ci sono trasmissioni che hanno registrato le telefonate che fai alla associazione exit la associazione dignitas nei loro agenti italiani e non c'è la persona al telefono che dice non ti suicidare c'è la persona al telefono gli spiega come si fa ad andare a dare 18 mila euro in svizzera ora noi dobbiamo capire dice giuliana fundarò condividiamo a manetta facciamo arrivare questa puntata ovunque dobbiamo capire vi chiedo il like alla puntata la condivisione sul vostro profilo vi chiedo il link mandato a tutti i vostri amici di facebook e di messenger di whatsapp in maniera che sia chiara la mobilitazione del popolo la famiglia che abbiamo fatto ieri anche sulla stampa contro la decisione della corte costituzionale che se arrivasse sarebbe drammaticamente deleteria per il tessuto giuridico del nostro paese il codice rocco è il codice penale italiano lo è sostanzialmente tutto l'articolo 580 è chiarissimo non necessita di interpretazione non è interpretabile ora questo tipo di situazione deve essere chiara dunque una sentenza che legittimasse l'atto di cappato è una sentenza platealmente contro il tessuto giuridico del nostro paese la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 580 aprirebbe uno spazio enorme ovviamente alla pratica sotterranea e a quel punto esplicita di suicidio assistito e di eutanasia senza poter intervenire perché tutti si appellerebbero alla sentenza della corte costituzionale noi dobbiamo assolutamente mobilitare le coscienze affinché ci sia piena consapevolezza su questo tema come dice bene roberto frecentese la lega non si espone ma perché la lega in alcuni molti in alcuni suoi esponenti apicali penso a zaia bene il governatore veneto luca a zaia ha detto chiaramente di essere favorevole all'eutanasia e c'è una vastissima area di quel partito che non si interroga sui temi etici perché non ha il reto terra valoriale che è il popolo della famiglia e dice chiaramente di essere a favore dell'eutanasia ma è chiaro guardate i numeri sul testamento biologico sul testamento biologico c'erano i numeri per far naufragare la legge ma la legge non è naufragata è stata approvata con le assenze dei parlamentari di centrodestra e con i voti decisivi di alcuni parlamentari di centrodestra un centrodestra che peraltro è allo sbando finale vi dico la verità i dati di bolzano e di trento raccontano la fine io non capisco i giornali siamo a stampa evangelo oggi i giornali dicono ha vinto il centrodestra non ha vinto il centrodestra signori ha vinto la lega diciamo con chiarezza ha vinto la lega il centrodestra è sparito forza italia è all'1 per cento a bolzano e al 2 per cento a trento di che parliamo non c'è più è completamente sparito il candidato di trento che diventa governatore leghista ha preso il 45 per cento il 27 per cento l'ha preso la lega non c'è più il centrodestra c'è un titolo di libero oggi che parla proprio di morte morte a bolzano è il titolo di di libero e racconta di un pd pd è incredibile il pd era al 7 per cento al bolzano si ritrova adesso al 3 al 3 era al 22 a trento si trova al 14 anzi al 13 e 9 siamo dentro lo sto dicendo da un po di puntate una fase epocale di trasformazione del quadro politico anche il movimento 5 stelle ha perso moltissimi voti a a un terzo dei voti rispetto alle politiche quindi attenzione l'unico partito veramente in salute è il movimento è la lega che vince e cresce ma ripeto forza italia ha fatto il 2 per cento e l'1 per cento il partito democratico ha fatto il 3 per cento a bolzano il 14 scendendo dal 22 quando aveva preso alle provinciali precedenti il 58 a trento a trenta aveva preso il 58 col candidato presidente ugo rossi ora rossi si è staccato dalla coalizione ha preso il 12 ma il povero pd è rimasto sostanzialmente al 14 anzi al 13 e 9 ora è finita una stagione politica se ne sta prendo un'altra completamente rivoluzionaria ma dentro questa stagione manca un riferimento oggettivamente per i valori cristiani non negoziabili non c'è un soggetto di ispirazione cristiana luca zaia il governatore veneto è a favore dell'eutanasia se oggi ci sarà la sentenza a favore di cappato state certi che sarà unanime il consenso unanime il consenso dei media compresi i media vicini alla lega sarà unanime vorrei chiedere a maurizio belpieto direttore della verità cosa pensa dell'eutanasia nella verità perché maurizio belpieto direttore della verità è pro eutanasia e vorrei vorrei vedere che tipo che tipo di titolo farà e infatti oggi la verità non dice una parola sulla sentenza di cappato che sta per arrivare l'unico giornale ripeto che fa apertura editoriale editorialino sulla questione è il quotidiano la croce che vi chiedo di sostenere allora mobilitiamo i gruppi di preghiera dice giuliana mobilitiamo tutto ma mobilitiamoci politicamente dobbiamo essere pronti a una comunicazione molto puntuale qualsiasi sia l'esito della corte costituzionale far sentire la voce del popolo la famiglia perché sarà l'unica voce in dissenso e noi l'abbiamo proclamato all'assemblea nazionale di mercoledì scorso noi stiamo organizzando in questo paese il dissenso rispetto al pensiero unico lo abbiamo fatto all'assemblea nazionale lo abbiamo fatto in piazza nel fine settimana con la mobilitazione di milano lo continuiamo a fare oggi questa settimana sulla questione marco cappato lo stiamo facendo a bergamo sulla questione cannabis light in tutta italia pisa penso a tante iniziative pdf in tutta in tutta italia noi stiamo mobilitando il dissenso rispetto al pensiero unico questo è il lavoro che svolge il popolo della famiglia lo facciamo quotidianamente vi ringrazio perché ieri siamo tornati di lunedì non è facile a fare 5.000 persone a stampa evangelo quindi grazie per l'ascolto che date a questa piccola rubrica grazie a voi se vorrete fare like alla diretta condividerlo sul vostro profilo prendere un link e mandarlo ai vostri amici di facebook di messenger di whatsapp saluto cecilia bini stamani mai fregato con l'anticipo arriva ora buon di però è importante la condivisione proprio per questo che poiché siamo andati a nonda con un po d'anticipo tutti quanti comunque possono arrivare a seguire la diretta stessa c'è poi il pdf puglia che sta mobilitandosi contro il ddl omofobia l'unica opposizione è quella del popolo della famiglia ci ricorda vito pietro lo porcaro come vedete la mobilitazione per strada nelle aule del dei consigli comunali e regionali nelle nei contesti mediatici è un'opposizione animata solo da noi quindi dobbiamo fare mobilitazione in questo momento ricordando la lezione di papa francesco anna ciappa ci ricorda che siamo stati in udienza dal papa e papa francesco ha detto con assoluta chiarezza per due udienze consecutive non uccidere non uccidere roberto mura pdf pisa ricorda siamo circondati da gente pro morte pronte a saltarci addosso per zittirci saluto anche silvia laura roberto i tanti che sono connessi alla diretta in questo momento vi chiedo davvero la condivisione della diretta il like la diretta stessa cerchiamo di far capire che la nostra posizione è una posizione che ha una sua mobilitazione popolare certamente ce l'ha perché è quello che siamo riusciti a fare per ora aggregare intorno al popolo la famiglia 220 mila persone lo ripeto il triplo dei voti che prese la lista pannella l'ultima volta che pannella si è presentata alle politiche cioè nel 2013 evidentemente dobbiamo svolgere un ruolo uguale e contrario a quello svolto dai radicali nell'ultimo trentennio dobbiamo saper costruire la nostra mobilitazione saluto anche sabrina bosu che ci ricorda che alla fine la vita trionferà sulla morte mattia dice non si risolvono i problemi con un like ovviamente ma qui servono vai con le carte in mano da chi di dovere stiamo andando questo è un modo per andare a fare pressione su chi di dovere cioè i giudici della corte costituzionale che devono sapere che c'è uno sguardo che non è lo sguardo di marco cappato dei giudici milanesi di tutti quelli che sono a favore di marco cappato ma c'è anche uno sguardo di chi è contrario evidentemente giuliana fundarò dice dobbiamo essere tutti uniti parlo di tutti i gruppi pro life ovviamente coinvolgete tutti i gruppi possibili in questa mobilitazione odierna perché una mobilitazione necessaria maria di giuro ha detto ciao mario già invita inviato a più di 500 amici tutti devono sapere è importante maria quello che hai fatto se tutti inviassero questo link a più di 500 amici questa diretta sarebbe affollatissima e il nostro messaggio passerebbe molto agevolmente lo chiedo a tutti i 110 che in questo momento sono in diretta mandato a 500 amici e vedrete cosa siamo capaci di fare sabrina bosu ci ricorda senza soldi abbiamo fatto tantissimo o con un po di soldi perché un po ce li abbiamo messi ma ovviamente insufficienti se dobbiamo fare la gara con soros ha vinto soros non c'è niente da fare è più ricco di noi ma noi quel poco che potevamo mettere l'abbiamo messo per fare cinque campagne elettorali lo ricordo abbiamo fatto cinque campagne elettorali la costituzione il movimento popola famiglia sei assemblee nazionali tre feste nazionali della croce quotidiano un numero al giorno per più di 800 numeri della croce quotidiano insomma un po di risorse le abbiamo messe a correre ovviamente senza chiedere nulla a nessuno ma chiedendo a tutti se è possibile iscriversi al popola famiglia e sostenere il quotidiano la croce che è quel minimo che ci mette in condizione di andare avanti nella nostra battaglia saluto andrea aquilino flavia lanci faustino cogliandro roberto foppa che ce l'ha con bergoglio su questa bacheca noi parliamo di papa francesco non di bergoglio noi portiamo rispetto al santo padre e ripeto le sue catechesi sul non uccidere sono talmente recenti che sono davvero ispiratrici per la nostra azione andrea aquilino dice buongiorno a tutti in particolare al nostro infaticabile mario sabrina bosu dice io invio ogni giorno a tutti oltre 7500 persone la povera sabrina poi viene bloccata tutte le volte perché fa troppi invi del nostro link grazie per quello che fai saluto francesco ciccio ferraro ombretta di dolfi titta donato giancarlo lazzerini vedo dei nomi nuovi quindi gli facciamo il benvenuto a stampa e vangelo il benvenuto nella comunità del popolo della famiglia un abbraccio a tutti voi che vi ho visto meno volte diciamo così collegati in diretta spero che la puntata di oggi sia utile per dirvi cose che non conoscevato prima e questo è il lavoro che svolgiamo mobilitando più persone possibili a difesa della cultura pro life anche del tessuto giuridico pro life a far conoscere quali sono le norme che tengono in piedi il sistema pro life nel nostro paese saluto massimo dal passo pdf bergamo cristiana di stefano pdf marche mina d'angelo mauro chialastri saluto davvero tanti amici spero che la puntata di oggi grazie a lilly costo siamo cresciuti anche in sud africa grazie lilly danilo bassano dice a che ora avremo la decisione della consulta in serata quindi tutti i mobilitati perché la mobilitazione massima la dovremo esprimere in serata saluto enrico enrica corradini che dice la puntata è stata molto utile grazie a te enrica per averci seguito io vi abbraccio vi chiedo la massima mobilitazione consuelo nespoli insieme a massimo dal passo ricorda il 28 tutti a bergamo contro la canna bis light altra mobilitazione che fa solo il popolo la famiglia contro la cosiddetta droga leggera legale che è una cosa folle lo spiegano benissimo moltissimi neurologi e follia aprire anche qui i cancelli che danno verso l'inferno a giovani e giovanissimi attraverso questo mercato nuovo della cosiddetta droga legale che è una cosa ossimorica cioè non possono stare insieme le due parole senza contraddirsi saluto anche giuseppe martini che dice grazie della tua battaglia saluto marcello baldini la nostra chiara ardente cioè la siciliana militante verace del popolo la famiglia serafina geraci saluto cecilia bini che chiede a chiara di mandare questo messaggio per diffondere saluto il grande mirco fanizzi che che lavora in puglia ad altamura saluto alessandra trigila pdf modena mobilitato sabato prossimo saluto elena barba grazie grazie che diopi benedica dice grazie davvero elena un abbraccio a tutti voi noi torniamo domani con stampa evangelo e commenteremo evidentemente l'esito della della decisione che verrà assunta dalla corte costituzionale però chiedo a tutto il popolo la famiglia la massima mobilitazione come dice andrea brenna del pdf como uniti e compatti in difesa della vita anche gabriella violi ha condiviso la diretta di oggi vi chiedo un ultimo like alla diretta stessa un like alla diretta un condividi sulla vostra pagina prendete il link mandato ai vostri amici più di 500 ciascuno dai su messaggi su whatsapp ai vostri amici di facebook creiamo la massima mobilitazione salutando francesco sciarrabbone e alessia biaggi che dice giustamente alessia non si può non resistere la resistenza è profondamente umana grazie mario ma grazie a te a te alessia per queste parole importanti ricordo dunque la nostra mobilitazione di oggi e di domani sul caso cappato sabato la mobilitazione a bergamo contro la cannabis light giovedì a via baldovinetti anche ci vediamo a roma contro la droga light c'è don massimo lapponi i sacerdoti che ci aiutano visto arrivare anche don ottorino baronio prima ringrazio tutti i sacerdoti che ci aiutano invitando anche alla preghiera per questo problema come fa don massimo lapponi in questo momento cristiana di stefano dice una bellissima frase voglio la gelateria sotto casa non il negozio di droga e mi pare evidentissimo ma se i marco cappato vincono altro che gelaterie ci ritroveremo i coffee shop ovviamente tra poco in ogni angolo del paese e poi dei gran bei saloni dove ci si può andare a suicidare liberamente accanto a quelli dove ci si droga in maniera pulita perché questa è la società dei disperati la società dei disperati che vogliono costruire attorno alla cultura di morte grazie a luigi bruno torre grazie a don francesco morcavallo c'è un altro sacerdote che arriva prego e benedico grazie a don francesco c'è flavia lanci vi ringrazio davvero per la partecipazione a questa puntata partita con molto anticipo rispetto alle nostre medie cecilia dice che ipocrisia malcelata me lo fanno molto esplicitamente non sono neanche ipociti in questo a marco cappato riconosco una dignità è pronto a pagare di persona per i propri ideali vorrei davvero che tanti cattolici prendessero esempio in questo nel metodo da marco cappato perché è pronto andare in carcere per perciò in cui crede e attenzione quindi vorrei che tanti fossero in grado di fare quello che fa marco cappato con consapevolezza purtroppo fa il male questo è il problema e dunque noi stiamo stigmatizzando questo e se devo dire la sincera verità io non voglio cappato in carcere voglio che faccia che sia condannato magari faccia un giorno di carcere e poi venga graziato ma che il principio sia salvo io non sono un manettaro non voglio le manette per marco cappato voglio che però la norma sia chiara che non sia in alcun modo scalfita la norma che non sia scalfito il principio non ce l'ho personalmente con marco cappato anzi considero la modalità con cui marco cappato affronta questo tema una modalità per certi versi anche di insegnamento per la determinazione con cui è pronto a pagare un prezzo alto e di persona per la sua mobilitazione noi da questo punto di vista dovremmo persino prendere esempio cioè essere pronti a pagare di persona in maniera pesante per la testimonianza che rendiamo ai nostri valori ai nostri ideali alla nostra fede giuseppe annicchino dice molto intelligentemente io mi trovo con la mozzarelle di bufala mi sembra un ottimo modo saluto luigia vianello saluto anna ciappa che ci ricorda che la mobilitazione popola famiglia è alle ore 18 presso il food drink di via baldovinetti 98 questo per i romani e anna ciappa ci ricorda contro la canna bislight ci vediamo 25 ottobre ore 18 a via baldovinetti 98 saluto romana cordova un altro sacerdote don natalino bonazza sacerdote prezioso di venezia mestre chi paga cappato è molto semplice i soldi come si sa sono i soldi della open society foundation di di george soros questa è una cosa nota non è in alcun modo un mistero che soros finanzi le attività di bonino e cappato c'è anche anna russo saluto davvero i tanti sacerdoti che stanno partecipando alle puntate di stampa evangelo sono confortato in questo c'è stata una fase in cui si non dovevo leggere il vangelo la mattina e trovare tanti sacerdoti che vengono a seguire la puntata mi conforta da questo punto di vista saluto anche marco sciamanna che appena arrivato come nostro referente in umbria pdf umbria tra l'altro ricordo che il 10 sarò a assisi per una grande mobilitazione una grande mobilitazione eh che faremo a santa maria degli angeli dopo san pietro andiamo ad assisi a santa maria degli angeli e il pdf insomma continua ad essere accolto nei grandi luoghi della cristianità e questo per noi è di grande conforto evidentemente io vi saluto e vi do appuntamento dunque alla puntata di domani ma oggi restiamo tutti connessi come comunità perché la risposta ciò che accadrà alla corte costituzionale ovviamente sarà una risposta che rispetto al peana che in un senso o nell'altro accoglierà marco cappato ci sarà una una posizione alternativa opposta che è solo quella del popolo della famiglia dunque serve la massima coordinazione rimaniamo tutti eh collegati con i vari strumenti che abbiamo ci saluta anche alex zino finori lo saluto anch'io ricordo un like alla diretta prima di andare via una condivisione eh della diretta sul vostro profilo facebook e un invio del link per far seguire la diretta anche a chi non c'era in questo momento eh ai vostri amici messenger whatsapp e facebook è arrivato anche alessandro margiotta da rimini don francesco carca morcavallo dice il rischio di cappato è calcolato però è sempre un rischio eh cioè se lo corre vorrei tanti cattolici così coraggiosi pronti da correre 12 anni di carcere come rischio invece che stare comodamente a casa o magari fare solo gli ipocriti su facebook e battersi il petto in chiesa qui gente si mobilita è gente che riesce a fare enorme mobilitazione e usa poi questa roba come grimaldello dice bene chiara ardente però è il metodo della politica questo è quello che dobbiamo fare noi dobbiamo imparare a fare noi perché secondo me eh da questo punto di vista abbiamo qualcosa da imparare eh Stefano Tommaso mi chiede cosa penso di Steve Bannon basta scorrere la mia pagina Instagram si sa che io sono amico di Steve Bannon quindi ne penso bene ovviamente non condivido il cento per cento delle cose che pensa ma è un mio amico quindi ci siamo incontrati anche recentemente e forse pure scorrendo la bacheca di facebook trovi la foto eh mia e di Steve Bannon insieme saluto Maria Di Giuro che ha fatto il suo lavoro dando a 500 persone il contatto con Stampevangelo vi ringrazio davvero molto c'è Francesca Donzelli che arriva ora c'è Pietro Cirasola c'è insomma tanti amici che sono venuti a seguire la puntata di eh Stampevangelo andate in onda con un po' d'anticipo quindi si chiude anche con un po' d'anticipo grazie a tutti voi da Maria Di Nolfi una buona giornata restiamo connessi per tutto il giorno poi domani puntata importante arrivato in extremis anche il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo con cui ieri ha avuto una lunga e profigua riunione grazie a Nicola sempre per il lavoro prezioso che svolgi coordinando tutto il nostro popolo grande a livello nazionale quindi grazie a Nicola Di Matteo eh noi eh ci ritroviamo lo ripeto domani mattina per la valutazione di ciò che è accaduto in Corte Costituzionale ma restiamo connessi tutto il giorno per dare insieme eh le indicazioni anche di comunicazione in risposta a ciò che accadrà alla Corte Costituzionale sull'articolo 580 del codice penale eh Nicola Di Matteo ricorda che tra pochi giorni ci sarà anche il coordinamento eh regionale Lazio e quindi la riunione dei Romani ehm e e la mobilitazione territoriale dei Romani comincia dopo domani a via Baldovinetti come iniziativa sulla cannabis light grazie a tutti ricordando anche la mobilitazione dei Bergamaschi sempre sullo stesso tema eh i banchetti che faremo a Modena sabato insieme in coordinamento proprio con il PDF di Bergamo eh grazie per tutte le iniziative ricordate di mandare alla croce quotidiano ghioccio a gmail.com le logandine con le iniziative se volete scrivere articoli che raccontano e presentano le iniziative scriveteli e noi li pubblichiamo l'email è lacroce quotidiano ghioccio a gmail.com leggete la croce l'unico quotidiano che oggi apre sul caso Cappato con l'apertura l'editoriale l'editorialino tutta la prima pagina sostanzialmente dedicata a questo per preparare a un'attenzione che purtroppo nessun'altra testata ha dato in termini critici e dunque noi ci sobbarchiamo l'onere di questo ruolo eh grazie anche a Luciano Signorile eh a tutti gli amici che sono ancora in connessione da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti